ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video su code oggi giocheremo insieme con la mia fidanzata dove proveremo questa modalità e cercheremo di arrivare tra i primi posti do il benvenuto a tutti quelli che sono iscritti da poco sul canale grazie mille grazie mille per tutto l'appoggio che mi state dando per aiutarmi a crescere quanto più velocemente possibile il canale inoltre ricordo a chi ancora non l'ha fatto di iscriversi al canale di attivare la campanellina degli avvisi di mettere un mi piace commentare e dirmi cosa ne pensate insomma potete scrivere quello che volete nel frattempo ci prepariamo per raggiungere il nostro obiettivo ed è quello di raggiungere le prime posizioni voi che dite ragazzi ci riusciremo quasi tipo per me mi raccomando nemico in discesa nell'area non ho capito questa in discesa andiamo a prendere ragazzi cosa eccola la del corte lo prendiamo forse l'ho preso ma forse l'ho preso ma ma preso pure lui a me mannaggia dai namo damo ok adesso abbiamo deciso dov'è che dobbiamo atterrare però è molto importante sperando ad ora di non cadere dove stanno 500.000 persone ok mi aspettate perché voglio decidere bene dov'è che ce l'abbiamo anche aia va bene dai se stanno appuntati e cosa no ma forza ma abbiamo avuto un po' di fortuna ma se di quello ci serve come dai dai prendiamoci un po' di scudo annaccia quando stanno forse sono ancora lì di fronte facciamo attenzione non devo rimettere per ammire tanto qua scusate ok mettiamo la prima qua forse se arriva qualcuno è una brutta tiglia o almeno spero lo facciamo sperare occhio eh facciamo attenzione molto probabilmente verranno sicuramente dalla nostra parte quindi compagno inviato nel kulak combatterà per tornare in azione chi è fuori dalla zona è meglio che si sbrighi mannaccia c'era una mia fidanzata nel mostro perché non è stato allora posso dopo la cosa se facciamo intambola andiamo ad aiutati nel frattempo ne facciamo attenzione eccolo 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 si meno uno compagno inviato nel kulak combatterà per tornare in azione eccolo 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 si ce l'abbiamo fatto almeno io mamma fatevi sotto fatevi sotto forza forza dai dai che sono carico forza hanno conciato per le feste il vostro compagno lo rispediamo alla base eccolo qua che sta per arrivare credo lo sentiamo di pass dai ragazzi che li ammazziamo uno a uno eccolo si ciao ciao uuuu guardate chi sta qua mi amore mio battito è ardiaco qui stazione medica trovata si si ce la facciamo anche a un po' di soldi a rianimato questo ha più e due stanno di fronte noi ragazzi andiamo piano piano aspettiamo un pochettino dai ragno caduto tornerà alla base e questo veramente ma eh si avete visto ci sono un sacco di di passione qui prendiamoci pure le fucile precisi perché siamo per bravi prendo ci resti solo tu facciamo questa cosa madonna che brutto minino ok se ne pensate questo minino ragazzi se ne un cazzo non si vede niente no meglio questo che sto sentendo i passi si si stava arrivando qualcun altro eh si 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 molto vicino eccolo uuuuuh uuuuuh mamma mia ragazzi mamma mia l'ho visto veramente brutto 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 guardate che spute di vita ci aveva rimasto guardate 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 beh ogni tanto una nuova stazione medica trovata ah sta arrivando qualcuno perché dal radar sta qui stazione medica trovata due pass non lo so comunque sono vicino se sono il radar eh ne stanno due eh spero che si ammazzano per di loro ok vediamo un po' se c'è qualcuno eh no non c'è nessuno eh adesso sta veramente vicino bisogna fare attenzione qui stazione medica trovata WAP nemico in volo ok dobbiamo riuscire bene perché qua eh ben sapete il mio carico inizia a muore ah eccolo la e lo sapevo io che stavo la perchè stavo proprio vedete il radar no uno è sceso con che cos'era quello il paragrafo di utero o meno avendo a me erabbe ecco eh sono in tre probabilmente ci ho visto giusto allora vediamo un po' quello che fine ha fatto quello che stava lì qui stazione medica trovata un attimo solo eh che cosa eh un attimo di pazienza che qua bisogna essere fuori lo schieramento finale quasi pronto non resta molto tempo un attimo da passi in movimento nuova zona sicura individuata andiamo bene bene prima di rimuoverci ah eccolo lì avete visto? dove sta andando qui stazione medica trovata noi fanno che ci fanno da quelli nostri sì bene qui stazione medica trovata vedete adesso possiamo andare dai andiamo ragazzi andiamo a salvare andiamo a salvare andiamo a salvare allora rialimiamo i miei ragazzi e poi questo qua ok via ne facciamo attenzione sempre perchè sono sempre nella quattro e poi siamo ehm nel sempre nella sezzo quindi sta diventando sempre più difficile avete degli aspetti arrivo buono mi piace questo mi piace di più uno si è di fronte ok siamo dentro quindi dovevo fare l'attenzione perchè ahia mannaccia eh vabbè mi ha fregato stringi dentro non è grave stringi dentro no no ce la posso fare ce la posso fare non è grave meno male che avevamo ehm un sacco di scuola se vi servono questi sono dei medici vabbè no si sta avvicinando troppo è quello la che fino a quattro si sta avvicinando pure quello ok come avete saputo adesso si fa sempre più piccola la sensore però un po' di fortuna dai siamo proprio ai bordi lì proprio ah ok disponibilmente un infarto sono dei medici dell'area zona marcata in movimento ah ah cavolo qua sta ah buono eccolo 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 buono ok quello sta ancora là ah bene un altro sulla destra no non sta sotto mi sa che sta sotto forse eccolo 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 si wow ragazzi quanto sia partita questa e stiamo in 6 dove stanno uno sta là segnaliamo lo tempo perchè è importante possiamo andare anche agli altri sono di due vedo movimenti ah ok l'attene stanno due come non ho detto nemici ignorate qualcuno e poi ignorate quello che ho detto nemici nell'area ok si si ne stanno ancora là due poi due facciamo attenzione facciamo attenzione che ho detto che i livelli che i livelli hanno più piccoli sono più difficili ecco tornacce anche ma dove è passare mi spiace ho mostrato la lista dei conti vediamo se ce la faremo dai ragazzi fate il tipo per noi dove stanno si abbiamo vinto ragazzi vittoria fantastico abbiamo vinto bravissima fantastica come sempre bellissima vittoria fantastico attenzione sono davvero felicissimo di questa vittoria che abbiamo ottenuto mi raccomando un like per questa vittoria davvero bellissima sono davvero felicissimo mi raccomando iscrivetevi lasciate un mettete la compatibilità di cosa ne pensate io sono emozionatissimo fantastico e da tanto che aspettavo questa vittoria su su code sono felice di averla condivisa con voi va bene ragazzi dai per questo video è tutto ci sentiamo in un prossimo appuntamento per il quale speriamo di fare un'altra fantastica vittoria un saluto a tutti dal vostro mister frank grazie 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 grazie